Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Qualche giorno fa, se vi ricordate, ho recuperato un cofanetto contenente la ristampa dei primi 12 albi di Diabolic. Io nasco come vecchio lettore di Diabolic alla fine degli anni 90, perché in concomitanza con l'inizio del mio collezionismo di Dylan Dog, il mio miglior amico si era appassionato al re del terrore e così cominciò ad acquistare degli albi sia l'inedito, la ristampa R, quella con la costina bianca, la prima ristampa, che la seconda ristampa Swiss e in più faceva anche dei recuperi e quindi in un paio di anni ho letto ben più di un centinaio di Diabolic, però non avevo mai letto i primi perché lui iniziò che la ristampa Swiss era intorno al numero 50 e quindi effettivamente mancavano tutti i primissimi albi. Ultimamente, grazie all'amico Marco, mi sono un po' riavvicinato a questa testata, mi è venuto il pallino e ho voluto recuperare appunto il primo cofanetto, contenente gli albi dall'1 al 12 che corrispondono a metà della prima annata, perché Diabolic a tutta la pubblicazione particolare che non sto a spiegarvi in questa sede. Ho letto i primi 5 e adesso vi voglio parlare in modo particolare del numero 1. Il numero 1 nell'edizione Swiss, contenuta nel cofanetto, si differenzia molto dalla Swiss uscita nel 1994. Innanzitutto c'è da chiarire una cosa che avevo già detto il video precedente, la Swiss contenuta in questo cofanetto, che poi sarebbe la seconda ristampa, non è neanche quella originale tra virgolette del 94, ma è una riedizione del 2022, quindi è una ristampa della seconda ristampa uscita nel 94. Lo si può vedere dal numero 2, seconda ristampa Swiss e Diabolic, mentre il numero 1 ha una particolarità di essere quasi integralmente una fedele riproduzione dell'originale uscito nel 1962. Infatti se lo confrontiamo col numero 2, vediamo il prezzo che qui è riportato in lire 150, mentre qui hanno 2000 lire, perché appunto è una riedizione 94. Le lacostine laterale sono uguali, però all'interno si differenziano molto. A cominciare dalla seconda ricopertina che non riporta nessuna scritta, mentre qui ci sono l'elenco degli albi che uscivano quel mese, tra appunto in editor, ristampa R e Swiss, e poi iniziava direttamente la storia, esattamente come l'originale. Alla fine trovavamo vari articoli che poi vi mostrerò quando analizzeremo l'albo, mentre nel numero 2 in questo caso troviamo diciamo delle barzellette, ma anche un riassunto dell'albo successivo che avremmo trovato in edicola. Questo numero 1 si differenzia dall'originale, ovviamente oltre dal fatto che la carta e la stampa è avvenuta molti anni dopo, ma principalmente per la scritta seconda di stampa Swiss in alto è la costina nera, perché per il resto è come riproduzione identica all'originale. L'originale, a differenza di questo, aveva la costina blu, perché sappiamo che i negli diabolic hanno quattro tipi di costine, in quel caso era blu, il contorno, questo quadratino intorno al numero era in rosso e il numero era in bianco. Per il resto è praticamente una riproduzione identica anche dell'assore che troviamo all'interno e che adesso andremo ad analizzare. Per quanto riguarda la copertina fu realizzata da Brenno Fiumali, che appunto si occupò di questo disegno ed uscì il primo novembre del 1962, come viene riportato tra l'altro qui in fondo. Qua dice pubblicazione trimestrale, numero 1, anno 1, primo novembre 62, qua abbiamo riportato chiaramente l'istampa del 2022. Per quanto riguarda i disegni sono opera di Zarcone, ma anche su questo adesso ci torneremo, perché prima di analizzare un attimino la storia e raccontarvi col canale su questo Zarcone bisogna dire un altro po' di cose. Questo numero 1 uscì il primo novembre 1962 ad opera di Angela Giussani, che poi sarebbe stata affiancata pochi mesi dopo dalla sorella Luciana, che decise di creare questo personaggio. Lei era una donna della ricca borghesia milanese e abitava vicino alla stazione Cadorna e immaginò appunto di, diciamo, tutti i pendolari che durante... come far occupare il tempo ai pendolari durante la traversata con i treni. E decise di creare questo personaggio nero. Siamo in un periodo in cui iniziava a esserci questo interesse per queste situazioni particolari, ambigue e anche violente e che divenne poi l'apripista di un filone nero a cui avrebbe seguito satanic, criminal anni dopo. e che appunto nasce nel novembre 1962. Il formato è pocket, così come lo possiamo indicare, e anche questo sarà una, diciamo, una novità rispetto al formato Bonellida, ad esempio, che era già in edicola e che quindi poteva essere tranquillamente, diciamo, riponibile in una tasca. Tra l'altro il numero 1, ovviamente non è questo il caso, nell'originale era leggermente più piccolo dei numeri successivi. Quindi questo è un altro ulteriore modo per riconoscere questo numero 1. La Giussani decise di creare questo personaggio, lei era sposata con Gino Sansoni che era un editore che possedeva la storia e creò appunto questa sua casa editrice chiamata Astorina, con cui fu edito questo personaggio, che apparve a novembre ma non ebbe molto successo all'inizio e si decise che il secondo numero sarebbe stato pubblicato soltanto tre mesi dopo. E quindi dopo una prima periodicità abbastanza irregolare poi cominciò ad avere una diffusione sempre più ampia, tanto che la prima annata di Diabolic, come dicevo anche nell'altro video, si compone di 24 albi, quindi in realtà io dovrei comprare anche il secondo e si conclude nel 64. Poi ci saranno periodi in cui le annate saranno di 6, di 24, però tendenzialmente poi sarebbero sempre state da 12, tranne i casi eccezionali in periodo estivo in cui ne uscivano 2. Diabolic quindi non riporta un numero di cosine in ordine cronologico come per esempio nei Bonelli, se noi prendiamo gli originali troviamo scritto 1, 2 fino a 12 indicante l'annata e poi si ricomincia da capo. Nelle ristampe invece c'è un ordine cronologico 1, 2, 3 e così via. Adesso la Suisse intorno al 300 è qualcosa, 330 credo. Per quanto riguarda invece questo albo fu stampato dalla Ingoia che era una diciamo una ditta che si occupò di stampare i primi 17 albi, poi successivamente fu assegnato ad un'altra società che si chiama Sodip il compito di stampare che è quella che ancora oggi si occupa di editare Diabolic, di stamparlo e si decise di ristampare anche i precedenti 17 numeri, 16 in realtà, che erano stati editi dalla Ingoia, tranne il numero 15 di cui non fu necessaria a quanto pare una ristampa perché i numeri furono sufficienti nella vendita, quindi il 15 si stesse soltanto Ingoia. Tra l'altro questo primo numero, come vi dicevo, fu disegnato da Zarcone che è un personaggio diciamo leggendario perché almeno da quello che ho scoperto su internet, poi se non è così smentitemi, era soprannominato il tedesco perché era biondo e girava con un bambino che sosteneva essere suo figlio avuto appunto con una donna tedesca. Aveva lasciato anche un recapito in un posto lì vicino, si recava soltanto presso la casa editrice per consegnare tavole e per ricevere il compenso. Quando terminò l'albo, sparì. Non si sembrero più notizie, andarono a cercarlo presso questo suo domicilio ma a quanto pare non esistava nessuno col suo nome. Anni dopo, nel ventennale del primo numero, quindi l'82, le Giussani contattarono una famosa agenzia investigativa per trovare questo personaggio di cui non esiste una foto ma soltanto dei disegni tra l'altro, ma non se ne seppe mai nulla. Quindi un personaggio leggendario, misterioso, veramente alla Diabolic. Poi ripeto, questo è quello che ho scoperto nella lettura online, poi se le cose sono andate diversamente o sapete qualcos'altro potete tranquillamente smentirmi o aggiungere perché sto piano piano cercando di imparare anche io qualcosa su Diabolic e quindi ogni suggerimento è ben accetto. Fu tra l'altro quando si decise di ristampare questi albi, il numero uno fu ridisegnato da Luigi Marchesi che appunto era considerato più professionale perché come vedete questo albo è veramente molto bozzato, è molto, non voglio dire amatoriale, però comunque i tratti sono poco definiti, che però è uno stile che comunque secondo me è interessante allo stesso modo. Tra l'altro questo primo albo che come vedete in seconda di copertina non riporta nessuna scritta e non c'è neanche un frontespizio come invece avremo nel numero due, parte direttamente con la storia e contiene tra l'altro anche degli errori che sono stati riscontrati appunto in questo primo albo e che poi furono eliminati nelle successive ristampe. Quindi questa ristampa che troviamo in questo cofanetto è praticamente salvo le poche eccezioni che vi dicevo prima sulla costina identica all'originale. Sulla storia c'è una certa famiglia semili o semili che in cui troviamo questa Marchesa che ha ospitato, diciamo, ha preso cura, si è presa cura di questo ragazzo che si chiama Gustavo Garian, che è il figlio a sua volta di un ricco signore, perché comunque gran parte delle trame diaboliche si svolgono nell'altra società, che si chiama Stefano, che è questo signore con questo pizzetto abbastanza mesistofelico, che torna da dei viaggi d'affarini in Oriente nel momento in cui appunto questo ragazzo deve comunque, diciamo, è diventato maggiorenne. Quindi sostanzialmente si tratta di una ricca famiglia di ereditieri. Se non che poi questa donna, la Marchesa Eleonora da Semili, viene trovata morta. I due uomini spariscono e quindi vengono immediatamente consigliati responsabili della morte di questa donna. E a un certo punto verrà chiamato, ci saranno degli omicidi, ecco questo è l'omicidio della donna con un pugnale, quindi è un marchio distintivo, e verrà chiamato a indagare il famoso ispettore Ginko, che qui viene presentato come appunto una sorta di leggenda nella polizia. La storia tra l'altro si svolge in Francia, a Marsiglia, e in una località immaginaria lì vicino, anche se alla fine troveremo anche delle immagini tratte dalla stazione di Milano, che non viene richiamata ma si riconosce da disegno che ci trova in Milano. Quindi la storia non è ancora ambientata a Clerville, questa località immaginaria in cui vive Diaboliche, che poi si può in qualche modo ricollegare al Principato di Monaco. Diciamo comunque siamo nella Cossa Azzurra, in Francia e in Villa di Ricconi fondamentalmente. Quindi Ginko viene chiamato a indagare perché a quanto pare i responsabili sembrano essere questi due uomini che sono spariti proprio nel momento in cui la donna è stata assassinata, ma lui immediatamente ritiene che il responsabile sia Diaboliche. Diaboliche viene evocato da subito nel racconto e nella lettura, per me era la prima volta, vi dicevo, sentivo proprio questo allone leggendario di questo personaggio mefistofelico, diabolico, quasi divino, la cui presenza è sempre più vicina, sembra costantemente lì che ti guardi, ma apparirà soltanto intorno a pagina 50, se non erro. Vi faccio vedere un attimo quando si vede, eccolo qua, pagina 50, 50-51, con questi misteriosi occhi. E alla fine Ginko ci ha visto giusto perché effettivamente l'assassino è proprio Diaboliche, il quale anni prima aveva preso proprio il posto di Gustavo, di Stefano Garianni, il padre di Gustavo, quindi l'uomo mefistofelico, proprio perché il suo obiettivo era quello di addentrarsi all'interno di questa famiglia per poi ereditare, impadronirsi della ricchezza di queste persone. E addirittura, col suo comportamento, perché nonostante utilizzare le maschere e studi molti personaggi, quindi sia un grande imitatore, una donna come la moglie di questo Garianni non può non riconoscerlo e infatti per questo motivo è stata considerata pazza, visionaria e rinchiusa in un manicomio. Diaboliche oltretutto tornerà in questo manicomio per, durante il racconto, per cercare di spingere ulteriormente per ottenere questa eredità e creerà ulteriori disagi a questa donna che sembrava quasi essere guarita. Quindi c'è anche una cattiveria non solo insita proprio nel personaggio, perché non è soltanto un lato, un criminale, un assassino, ma è anche un sadico. Tanto che addirittura sedurrà una ragazza, un'infermiera, che si chiama Elisabeth, una povera ragazza del proletariato che lavora come infermiera, tanto che poi riuscirà a circuirla per ottenere quanto vorrà. Qui si vede Diabolic rappresentato bene, chiaramente è molto diverso da quello che vediamo oggi, però questo suo aspetto mefistofelico c'è. E lui si presenta a questa Elisabeth, l'infermiera, come Walter Dorian. Ho pensato che Dorian potesse sul riferimento a Dorian Gray, il ritratto di Dorian Gray, chissà che sia stato così. E quindi intesserà una relazione con questa ragazza. Lui si presenterà come un ricco signore, un uomo d'affari, un nobile, che però farà trasferire con lui, ma ovviamente avrà altro da fare, perché è un criminale, è un assassino, è un ladro. E quindi abbandonerà spesso e volentieri Elisabeth in una prigione dorata. Salvo poi tornare nei momenti che riterò opportuno, anche chiaramente per fisicamente utilizzarla andandoci a letto. Questo non viene rappresentato ma è ben evidente. Quindi è un sadico anche nei confronti di questa Elisabeth, che è tra l'altro, cosa importante, questo racconto che inizia qui, in qualche modo, sotto certi aspetti, si conclude con il numero 4. Quindi il numero 2, inaffariabile criminale, l'arresto di Diabolic e atroce vendetta, proprio con la vendetta nei confronti di Elisabeth. Solo che non so raccontarvelo perché è lungo e quindi sarebbe interessante comunque leggere i primi quattro albi, anche perché tra le altre cose apparirà anche Evacant, che si palesserà nei numeri immediatamente successivi e con cui subito si capirà che i due hanno un'intesa molto profonda. Verrà svelato parte del passato di Eva e quindi è molto interessante, diventerà molto intrigante il racconto. Questa prima storia l'ho trovata interessante, i disegni sono appunto molto abbozzati, molto artigianali e anche la narrazione è un po' lunga, cioè comunque si vede che è un albo antico, un albo vecchio, qualche cosa mi è andata per scontato, però mi ha preso nella lettura, cioè sono stato molto interessato a capire dove andasse a terminare la storia, che poi appunto per altri motivi si concluderà soltanto col numero 4. Prima di chiudere una piccola curiosità, intorno a pagina 30 viene trovato un cadavere sfigurato che viene attribuito a questo ragazzo, Gustavo, ma in realtà non è lui e tra l'altro nella narrazione non ha neanche senso che possa essere lui, perché è necessario che sia vivo affinché Diabolic possa, utilizzando diciamo i suoi trucchi, far cadere la colpa su di lui e sul padre. Questo è un errore, un refuso, è stato fatto nell'originale, poi corretto nelle versioni successive, ma qui è interessante che appunto sia stato lasciato, ecco qua, il cadavere del signore Gustavo, dicevo che sia stato lasciato così com'era nella prima edizione. Già dal numero 2 i disegni cominceranno essere più simili a come li conosciamo adesso, sicuramente un po' più professionali, però il numero 1 rimane assolutamente iconico e ripeto, a me non dispiacciono neanche, sono i disegni comunque interessanti. Questo è quanto, vi consiglio la lettura di questi albi se non l'avete fatto, magari fate come me, recuperate questo cofanetto al prezzo di 30 euro ancora per qualche settimana, poi metterà 35, ma comunque insomma poca roba, perché Diabolic è un personaggio importantissimo nel panorama fumettistico italiano e non solo, uno dei capisaldi, dei pilastri, e quindi vale la pena conoscere le origini. Ci vediamo al prossimo video!